... Guardia gruppo, attenzione, attenzione, attenzione con Pacioni, Pacioni, attenzione, caduta, caduta, attenzione, attenzione, facciamo la maschina... Guardia gruppo, attenzione, attenzione, attenzione con Pacioni, Pacioni, attenzione, caduta, caduta, attenzione... Guardia gruppo, attenzione, attenzione, attenzione con Pacioni, Pacioni, attenzione, caduta, caduta, attenzione... Guardia gruppo, attenzione, 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 con Pacioni, Pacioni, attenzione, caduta, caduta... Guardia gruppo, attenzione, 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 con Pacioni, Pacioni, attenzione, caduta, caduta, attenzione... Luca Pacionil, traguardo di Imola, ti piace? Seconda vittoria è da due anni una volata alla Cardiopalma? Sì, devo dire innanzitutto grazie alla squadra perché anche oggi, non essendo nella fuga iniziale di 14 elementi, abbiamo dovuto tirare tutto il giorno. Nel finale ho fatto un lavoro strepitoso, mi ho lasciato a 200 metri dall'arrivo, dopodiché ho dato tutto. C'è stato un piccolo contatto con un altro atleta ma mi ha stretto contro le transenne e io sono rimasto in piedi, quindi è andata bene così. Grazie a tutti.